Gattari di tutto il mondo, il momento è giunto. Se il vostro sogno è sempre stato quello di interpretare un felino, Stray è il gioco che fa per voi. Sviluppato per PlayStation 4, PS5 e PC da Blue 12 Studios e pubblicato da Annapurna Interactive, uno dei publisher con il più bizzarro ed eclettico portfoglio di titoli, Stray offre l'opportunità di interpretare un gatto nella più importante missione della sua vita. Trovare un modo per tornare dalla sua famiglia, attraversando un futuristico mondo dalle tinte distopiche interamente popolato da robot ed altre figure meccaniche come B12, il piccolo droide che incontrerete durante le vostre scorribande e che vi seguirà per il resto del gioco. In termini visivi, Stray è stato visivamente influenzato dalla città murata di Kowloon, un insediamento sovrappopolato e per la maggior parte non regolamentato da alcuna legge, nella zona di Hong Kong, dove la popolazione viveva in conglomerati congestionati da minuscoli viottoli ed edifici accatastati gli uni sopra gli altri, finché non furono demoliti negli anni 90. A tutto questo bisogna aggiungere anche una connotazione generale dalle forti tinte Cyberpunk, con insegna al neon e colori pastello. Il gameplay di Stray verte fondamentalmente su tre punti cardine, esplorazione, platforming e risoluzione di puzzle, totalmente in linea con quanto visto in altri esponenti del genere. Quello che però lo differenzia dalla concorrenza sta proprio nella natura del personaggio principale. Siete un gatto e sappiamo fin troppo bene come dietro l'apparente tenerezza e dolcezza si nasconda una natura dispettosa, vagamente antagonistica e assolutamente meneferghista. In Stray potete miagolare per interrompere il dialogo di due personaggi, allungare la vostra zampetta e far cadere qualunque tipo di oggetto, oppure rifarvi le unghie su un divano in pelle. Insomma, vivere l'esperienza di un gatto al 100%. C'è bisogno di aggiungere altro? E se dopo tanta attesa vuoi aggiungere il prossimo Bayonetta 3 alla tua collezione per Nintendo Switch, da GameStop lo trovi in preordine a un prezzo speciale, ma solo fino al 31 luglio.